Salutiamo nuovamente coloro che attraverso Facebook ci stanno seguendo per la predicazione della parola di Dio. Siamo nel nostro locale di culto e ancora attraverso la piattaforma Zoom per questo nostro secondo culto che stiamo offrendo al Signore qui a Parma nella Chiesa Cristiana Evangelica Assemblea di Dio in Italia. Vogliamo insieme rivolgerci alla scrittura leggendo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 4 versetto 43. All'altro culto abbiamo considerato l'opera di Gesù a Cana di Galilea ora vedremo la presenza di Gesù a Cana di Galilea dopo aver operato a Cana di Galilea. Trascorsi quei due giorni Gesù partì di là per la Galilea poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque giunse in Cana in Galilea fu accolto dai Galilei perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure infatti erano andati alla festa. Egli Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vorrei soffermarmi su quest'ultimo versetto che abbiamo letto. Gesù venne di nuovo a Cana di Galilea dove aveva cambiato l'acqua in vino. Conosciamo il miracolo, il primo miracolo di Gesù compiuto durante il suo ministerio terreno a Cana di Galilea. Dicevamo all'altro culto che quello fu il primo miracolo di Gesù proprio per una famiglia. Gesù il primo miracolo non lo ha fatto per una guarigione, per una liberazione, ma in un matrimonio. Questo ci fa capire quanto al Signore Gesù prema il benessere spirituale delle famiglie. Quindi Gesù dopo aver operato questo miracolo vediamo in questo testo che abbiamo letto che Gesù si presenta ancora a Cana di Galilea, si presenta ancora da quella famiglia che in precedenza lo avevano in quegli sposi, che lo avevano invitato al loro matrimonio e Gesù lietamente, felicemente era andato a questo matrimonio e la sua presenza in quel matrimonio come in ogni matrimonio, in ogni famiglia, aveva fatto e fa la differenza. Perché aveva risolto il problema che si era venuto a creare. Ecco che Gesù è di nuovo a Cana di Galilea e di nuovo dove c'è quella famiglia, la presenza di Gesù a Cana di Galilea. E questo mi porta a fare delle considerazioni che voglio condividere insieme a voi, proprio alla luce di quella che è stata la meditazione precedente, che trovate su Facebook se la volete seguire, al culto di prima e alla luce di quello appunto che Gesù ha compiuto, lo leggiamo in Giovanni capitolo 2, in questo matrimonio, sempre a Cana di Galilea. Qui vediamo la presenza di Gesù e notiamo innanzitutto un primo particolare, l'iniziativa presa da Gesù. Gesù prese l'iniziativa, avete notato? non è che quella famiglia di Galilea lo aveva chiamato perché Gesù tornasse da loro in Galilea, a Cana di Galilea. Perché Gesù prese l'iniziativa? Sulla base di che cosa Gesù prese l'iniziativa di andare proprio nuovamente a Cana di Galilea? Il motivo è semplice, fratelli e sorelle, perché al matrimonio avevano invitato Gesù e invitando Gesù al matrimonio è come se avessero Gesù invitato Gesù nella loro famiglia, nella loro casa, dicendo Gesù vieni comincia dal nostro matrimonio, comincia da questa unione, si tu il Signore della nostra casa, della nostra famiglia. Gesù in altre parole sapeva che da quella famiglia era ben accetto, era accolto, era desiderato e la sua presenza era necessaria. Ecco perché Gesù a un certo punto andò lì. Egli, Gesù dunque, venne di nuovo a Cana di Galilea, prese l'iniziativa. Gesù, se invitato a casa, se gradito nelle nostre famiglie, si presenta ancora nelle nostre case, si presenta nelle nostre famiglie. Avete notato? Qui il testo non parla di nessun miracolo, non parla di nessun opera particolare, parla semplicemente della presenza di Gesù nuovamente a Cana di Galilea. E qualcuno dirà, beh, ma perché Gesù è andato lì se non ha dato nessun insegnamento, se non ha compiuto nessun miracolo, se come al matrimonio non ha risolto nessun problema? No, no, non è detto. Il testo non lo dice. Giusto per inciso, Giovanni, lo scrittore dice alla fine, se dovessi scrivere, se volessero scrivere di tutti i miracoli fatti da Gesù, i libri di questo mondo non basterebbero. Questo mi fa capire che comunque Gesù a Cana di Galilea ha fatto sicuramente qualcosa di particolare. Resta il fatto che c'era la sua presenza. Quando a casa nostra c'è Gesù c'è tutto, c'è tutto fratelli e sorelle. E questa famiglia lo sapeva molto bene perché avevano notato come Gesù nel loro matrimonio aveva fatto la differenza. La prima volta era stato invitato, ora Gesù stesso personalmente prende l'iniziativa e si presenta. Fatemi giocare un pochino di fantasia. Al matrimonio Gesù aveva ricevuto questo invito, era andato, gli sposi erano contenti di aver accolto Gesù al loro matrimonio, poi Gesù fece la differenza perché compì quel grande meraviglioso miracolo, quindi vuol dire che Gesù, la sua famiglia, sua madre stessa, la vediamo, in questo matrimonio erano conosciuti, erano graditi, c'era un legame. E poi Gesù fece questo miracolo e questi sposi capirono che la presenza di Gesù era indispensabile, quando all'improvviso nella loro nuova casa questa nuova famiglia vide arrivare Gesù. Immaginate quando, ripeto, fatemi giocare un pochino di fantasia, Gesù bussò alla porta. Chi è? Sono Gesù. Oh, entra, che piacere, che gioia, che gioia, stai qui con noi. E Gesù andò di nuovo a Cana di Galilea. Signore, vieni a casa nostra, vienici di nuovo, vienici ogni mattina, vienici ogni sera, starci dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Signore, sei tu il Signore delle nostre case, sei tu il Signore, il Sovrano delle nostre famiglie. Gesù era ancora lì, Gesù ancora con noi. In modo che poi alla mattina, quando ci svegliamo, possiamo parafrasare, le parole del salmista, mi sono addormentato, mi sono svegliato, ed ecco tu sei ancora con me. Ricordo un particolare che questi giorni mi è riaffiorato alla mente. Concedetemi una cosa personale. Voi sapete che io sono cresciuto senza papà. Per me mia mamma e il mio fratellino sono tutto. Abbiamo avuto una vita bellissima, particolare, difficile, dolorosa, ma bellissima e questo ha creato dei legami tra di noi fortissimi. E ricordo quando in un'occasione ero bambino, potevo avere cinque anni, ma lo ricordo benissimo, mio fratello è stato dovuto, lo hanno dovuto operare d'urgenza di appendicite. E ricordo, quando ho dovuto andare in ospedale, mia madre mi ha preso, io ripeto, potevo avere cinque, sei anni, ma lo ricordo benissimo perché mi ricordo i pianti, mi ricordo la disperazione, mi ricordo quei giorni, mi ha preso e mi ha portato da una famiglia di conoscenti, non avevamo parenti nella zona di Modena, e mi ricordo che mi ha portato da questa famiglia di conoscenti, e io quei quattro, cinque giorni, perché all'epoca con un appendicite si stava diversi giorni in ospedale, sono stato da questa famiglia, mi ricordo che la mia scuola era un po' lontana, non andavo a scuola, vabbè ero piccolino quindi molto probabilmente neanche andavo a scuola, comunque non andavo a scuola, e le giornate erano di una tristezza, stavo sempre in casa, mi mettevo davanti alla finestra e guardavo fuori, alla notte mi facevo dei pianti che solo io so, perché mancava la mia mamma, mi mancava il mio fratellino, e ricordo una mattina mi è venuta a svegliare mia mamma, io ero a letto e mi emoziono quando ho visto mia mamma, è come se fosse rinato, poi siamo tornati a casa e la famiglia era di nuovo unita. Bene, io ho quell'immagine di mia mamma che si è presentata e dell'immagine che ogni mattina, quando ci svegliamo, vediamo Gesù con gli occhi del cuore, che bello, Gesù è a casa nostra, non ti sentire solo, non ti preoccupare per la situazione che riguarda la tua famiglia, Gesù prende l'iniziativa per venire a casa nostra. L'invito, l'iniziativa presa da Gesù, mi piace anche il testo, Gesù venne di nuovo a Cana di Galilea. Perché venne di nuovo? Come era avvenuto il giorno del matrimonio? Perché innanzitutto c'era ancora bisogno di Gesù. Fratelli e sorelli, io e voi abbiamo sempre bisogno di Gesù. Così come lo avevamo all'inizio della nostra famiglia, il matrimonio, così lo abbiamo quando magari la famiglia si è consolidata. Questa famiglia aveva bisogno di Gesù il giorno del loro matrimonio e la presenza di Gesù fece la differenza. Ma dopo un po' di tempo, quando quella famiglia comunque, forse, apparentemente, poteva anche fare a meno di Gesù, ma nessuno può fare a meno di Gesù, è perché la presenza di Gesù è indispensabile, poteva vivere una vita comunque abbastanza tranquillo. Parliamo di una famiglia, di una coppia che, insomma, si stava avviando nella vita coniugale, nella vita familiare, quindi stavano forse le cose andando di nuovo bene, ma nessuno di noi, anche quando le cose vanno bene, può fare a meno di Gesù. Gesù, passatemi il termine un po' improprio, però concedetemelo, deve essere sempre a portata di mano, deve essere sempre con noi, deve essere sempre vicino, non lo lasciamo andare. Facciamo come quei due discepoli, Signore rimani con noi, si fa sera, stai qua, rimani con noi. È vero che Gesù arrivò da quella famiglia, è vero che a un certo punto lasciò di nuovo quella casa, ma Gesù è Dio, quindi in realtà era ancora lì con quelli cari, con quei sposini. Noi necessitiamo sempre della presenza di Gesù. E quindi, come accennavo prima, chissà, forse Gesù ha compiuto un miracolo. Che cosa vi necessita? Cosa posso fare per voi? Gesù tante volte faceva questa domanda. Che cosa vuoi che io ti faccia? Di che cosa hai bisogno? Signore, ci serve questo? Signore, ci serve quest'altro? Quando c'è la presenza di Dio c'è tutto. Fratelli, nelle nostre case, quando abbiamo Gesù, abbiamo la fonte di ogni bene. Abbiamo tutto. E infine, Gesù presente lì dove aveva operato. L'iniziativa presa da Gesù, Gesù di nuovo a Cana di Galilea, Gesù presente dove aveva operato. Uso un'espressione, tra virgolette, forte, però l'insegnamento c'è. Gesù aveva salvato quel matrimonio. Aveva salvato l'onore di quel matrimonio, perché aveva cambiato l'acqua in vino, erano rimasti senza vino, sarebbe stato uno smacco grandissimo per quella coppia, per quella famiglia. Iniziava veramente male per quanto riguardava la credibilità degli altri, per quanto riguardava l'immagine data da quella famiglia. Quindi Gesù intervenne con quel miracolo, salvando anche quel matrimonio. Gesù che unisce il matrimonio. Gesù che salva eventualmente dei matrimoni dove ci sono delle discussioni, dove ci sono degli attriti, dove ci sono delle incomprensioni, dove ci sono dei litigi. Fratelli e sorelle, io non lo so, perché ciò che avviene tra marito e moglie è sempre qualcosa di intimo, di personale, ma se il tuo matrimonio non va, non pensare di arrivare alla conclusione sciogliendolo. Tu per la tua strada, lei per la sua. Tu, sorella, dalla tua parte, lui dalla sua parte. No, non dobbiamo separarci, dobbiamo unirci per andare a Gesù. Uniti. Non dobbiamo ognuno seguire la sua propria strada, pensando di trovare chissà che cosa. Fratelli e sorelle, quando noi veniamo meno ai principi biblici, noi ci allontaniamo dal Signore, noi ci allontaniamo dalla sua volontà, noi ci allontaniamo dalla sua benedizione. Se nel tuo matrimonio ci sono dei problemi, la soluzione non è la separazione. La separazione è andare a Gesù, la soluzione è andare a Gesù e invocare il suo intervento. Come Gesù forse è intervenuto all'inizio, come ha operato, egli è ancora a Cana di Galilea per fare ancora un grande miracolo. Forse più volte ha salvato il tuo matrimonio, ma lo vuole salvare ancora di più, lo vuole benedire, lo vuole cambiare, vuole che tu lì possa realizzare i suoi beni. Gesù aveva salvato quel matrimonio, Gesù aveva compiuto un miracolo. Fratelli, Dio compie ancora meraviglie e opera in maniera gloriosa. ha trasformato l'acqua in vino il giorno del matrimonio di questi sposi, ora può trasformare il rancore in amore, la tristezza in gioia, la guerra in pace. Gesù che fa questo nella tua casa. Gloria a Dio. Gesù aveva trasformato quell'acqua e trasforma ogni cosa, ogni situazione. Chissà, forse Gesù andò da quei cari e disse, fatemi capire un po', ma del vino ne avete ancora? Del vino ne avete ancora? O vi è finito? O vi è finito? E se del vino non ne avete più, come il giorno del vostro matrimonio, l'acqua lo trasformate in vino, quell'acqua senza colore, senza sapore, che creava soltanto debolezza, io ho dato colore al vostro matrimonio, ho dato sapore al vostro matrimonio, ho dato forza al vostro matrimonio, ora desidero che quel vino ci sia ancora e se manca, lo voglio trasformare l'acqua in vino, nuovamente. Passatemi questa espressione, Gesù non ha perso la ricetta di come si trasforma l'acqua in vino. Gesù non ha perso la ricetta, non so come faccia, è una cosa che sa fare solo lui, solo lui. Gesù riesce a trasformare l'acqua in vino e questa ricetta, che conosce solo lui, egli ce l'ha ancora. però attenzione, forse c'è vino, vino in abbondanza, il vino, e i siciliani ora mi capiscono molto bene, molto bene, non deve prendere la via dell'aceto. Il vino non deve prendere la via dell'aceto, espressione tipica siciliana, chiedete ai siciliani, capiscono molto bene, il vino può diventare aceto. Allora, quando il vino tende a diventare aceto, in Sicilia, non so se in qualche altra parte, si dice proprio questo, ha preso la via dell'aceto e poi diventa aceto. Il vino non deve diventare aceto. L'acqua diventa vino, ma perché il vino non diventi aceto lo dobbiamo curare. Lo dobbiamo curare. Il nostro rapporto col Signore deve essere curato. Tu curerai il tuo matrimonio, la tua famiglia, se curi il tuo rapporto con Dio. Tu realizzerai la benedizione nella tua casa se sperimenti la benedizione di Dio. Tu vedrai l'opera del Signore in seno alla tua famiglia se vai a colui che opera, che è il Signore della gloria. Mi piace vedere, concludo questo testo alla luce dell'altro testo che voglio leggere. Giovanni 2, 11, dice Gesù fece questo primo dei Suoi segni miracolosi in Cana di Galilea. Gesù fece questo primo dei Suoi segni miracolosi in Cana di Galilea. Il vino, l'acqua trasformato in vino in Cana di Galilea. Quell'acqua che ora aveva sapore, aveva colore, dava energia perché era diventato vino. Cosa fa Gesù? Si va a sincerare, ad accertare se in quella famiglia a Cana di Galilea c'era ancora vino, c'era ancora bisogno del suo intervento. Gesù dunque venne di nuovo in Cana di Galilea dove aveva cambiato l'acqua in vino. Se Giovanni dice dove aveva cambiato l'acqua in vino, va da sé fratelli, che Gesù era ancora pronto in grado di cambiare altra acqua in altro vino perché colui che opera miracoli è ancora con noi e se Gesù è con noi siamo al sicuro. Alziamoci, rivolgiamoci al Signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.